Armani, faccio una puntura e non alle temi di sua opera russa. Ma no, guarda, ho già risposto ai colleghi, è una polemica, fra l'altro, francamente che io non condivido, nel senso, lei sa che io ho una posizione estremamente chiara sul tema dell'invasione dell'Ucraina, però noi non ce l'abbiamo con il popolo russo, con la storia russa, con la cultura russa, noi ce l'abbiamo con la scelta politica di chi ha invaso una nazione sovrana, i due piani vanno tenuti distanti, altrimenti facciamo molta confusione. Grazie.